Allora continuiamo a parlare del controllo di interazione per robot. Quello che abbiamo visto nella scorsa lezione è stato il cosiddetto controllo di cedevolezza. Quello abbiamo discusso sul fatto che io in qualche modo posso intenzionalmente o meno arrivare a scambiare delle forze con l'ambiente. La maggior parte delle volte sono operazioni che io devo fare in maniera intenzionale, questo per quanto riguarda l'ambiente strutturato direi che il 99% delle volte è così. Invece per i cobot o per la robotica in ambiente non strutturato non è più così scontato e anche un'interazione, un urto con un operatore deve essere messo in conto e deve essere assolutamente considerato nella legge di controllo. Altrimenti un controllo cosiddetto rigido che ignori l'interazione è un controllo che tende a reiettare qualsiasi tipo di disturbo. Una forza che venga dall'esterno e non prevista, che può essere l'urto con un operatore oppure con un oggetto dell'ambiente, dal punto di vista della modellistica matematica è un disturbo e quindi viene reiettato. E reiettato significa che il controllore applica una forza uguale e contraria per annullarlo. Per cui questo significa che non sarebbe sicuro un robot del genere. Ok? Qualsiasi urto reagirebbe male, fatemi dire così. Ora abbiamo visto il controllo di cedevolezza, ossia abbiamo visto che un controllo puramente posizionale, cioè un controllo che ignori questa presenza dell'interazione, alla fine si comporta come una molla, nel senso che se viene raggiunto il regime, io qua metto un se davanti, perché noi non abbiamo affrontato gli aspetti analitici, ma potrebbe anche non raggiungere il regime, nel senso che c'è un contatto. Quando c'è il contatto c'è una discontinuità, quindi il modello matematico è più complesso rispetto a quello che stiamo studiando e non è detto che il robot non reagisca spostandosi e poi continuando a avere o staccare il contatto. Per cui, tralasciando tutti gli aspetti matematici dovuti al fatto, alla discontinuità del contatto, facciamo l'ipotesi che venga raggiunto un regime, cioè che tutto si fermi, abbiamo visto che il controllo puramente posizionale è una molla, è più o meno complessa, l'espressione matematica va un attimo vista con calma, però alla fine parliamo di una molla. E visto che possiamo desiderare eventualmente controllare un robot senza l'aggiunta per esempio di sensori di forza, senza alterare troppo, noi quello che abbiamo visto è che se noi utilizziamo un controllo puramente posizionale, la nostra molla è configurazione dipendente e questo assolutamente non ci piace perché vuol dire che si comporterebbe in maniera diversa a seconda della configurazione del robot, assolutamente inaccettabile dal punto di vista delle prestazioni del controllo. E abbiamo scoperto come poter almeno ottenere un comportamento che sia lo stesso in tutto lo spazio di lavoro. Per fare questo abbiamo semplicemente definito un nuovo errore, non rispetto alla terna base, ma rispetto alla terna desiderata. Ok, quindi questo è quello che abbiamo fatto ieri, una molla vorrei gestire meglio il transitorio, cioè io vorrei essere in grado di in qualche modo progettare il comportamento del mio robot a seguito dell'urto, a seguito dello scambio di forze. E lo facciamo oggi col controllo di impedenza che chiude anche la categoria, fra virgolette, dei controlli di interazione indiretti, cioè i controlli in cui io non assegno un valore di forza esatto da scambiare, ma assegno, soprattutto adesso nell'impedenza, più che altro un comportamento da tenere. Come abbiamo fatto anche per il controllo di cedevolezza, per capire il comportamento del controllo di impedenza cerchiamo di semplificare all'osso le equazioni e all'osso significa un grado di libertà, un punto materiale. Va bene? Questo è la cosa più semplice che possiamo fare per capire che cosa ci troviamo di fronte, che tipo di approccio ci troviamo di fronte. Allora, la mia equazione è forza uguale massa per accelerazione, abbiamo detto la più semplice possibile, quindi senza attrito, punto materiale, senza gravità, la massa è quel di un punto, U è il mio riferimento, per cui è il mio, chiedo scusa, il mio input, il mio controllo, ed F è questa forza esterna. Guardate, c'è un'ipotesi qui, la sto misurando, ok? Io sto misurando questa forza esterna. Ora, scelgo una legge di controllo apparentemente simile a quella precedente, con qualche piccola modifica. Nel caso precedente io avevo scelto M e poi, diciamo, nella parentesi tonda avevo messo l'equazione differenziale del secondo ordine che mi serviva per avere a ciclo chiuso un'equazione differenziale del secondo ordine nella variabile x tilt. Allora, io adesso faccio qualcosa di leggermente diverso. qui ho sempre M. Poi guardate però, c'è parentesi tonda e all'esterno della parentesi tonda c'è una semplice più F che invece, diciamo, ha implicazioni abbastanza forti. Nel senso che io qui sto dicendo al mio controllore, guarda, tu misura la forza e compensala, cioè annullala, perché io nell'equazione ho meno F. Nel controllo ci metto più F. Si semplificano. Quanto è delicata questa operazione che algebricamente è una banalità? Beh, prima di tutto ho aggiunto un sensore. Quindi poi io devo cercare di capire il mio sensore, diciamo, quanto è affidabile. I sensori di forza e di momento sono sensori che sono caratterizzati da una certa rumorosità. Questa è più o meno la caratteristica principale di quasi tutti i sensori di forza. e poi però questa F io la rimetto dentro alla parentesi tonda, perché io non la voglio solo compensare, perché se io la compensassi e basta, avrei reiettato il disturbo, avrei fatto quello che, diciamo, è il compito di un controllo di posizione. Invece, io non voglio reiettare il disturbo. Io voglio che questa F funga da nuovo ingresso per poter imporre un comportamento al mio robot. Cioè io voglio che il mio robot ceda rispetto alla presenza di questa forza, ma lo faccia come dico io. Nel caso di controllo puramente posizionale avevamo visto che, per esempio, non potevo assegnare la M, cioè uno dei tre coefficienti, non lo potevo assegnare, il coefficiente in accelerazione, e con e senza contatto cambiava l'equazione dinamica. Per cui nel caso di controllo puramente posizionale, il comportamento aveva dei limiti molto forti. Adesso voglio superare questi limiti. Per farlo aggiungo quindi un sensore, ho detto, misuro la forza e nella legge di controllo io la compenso questa forza, però poi la rimetto dentro come input, facendo i conti, quindi U uguale a M diviso MD. MD è un parametro. La scelta del nome di questa variabile a me non piace molto. Io ho mantenuto la coerenza con la notazione del testo. Per cui tutte le equazioni che voi trovate in questi lucidi sono identiche alle equazioni del testo. Addirittura il professor siciliano in origine mi chiede il sorgente che era Tec, non era neanche la Tec dei lucidi. Ovviamente li ho cambiati, li ho adattati nel corso degli anni, però le equazioni, la prima era proprio uguale. I font sono gli stessi. Per cui continuo a non cambiarlo questa MD, però a me non piace proprio, perché per me questo è un K con M, così come un K con V e un K con P. Perché? Perché è chiaro che K con P e K con V sono dei guadagni, sono dei parametri del progettista. Ma anche M con D sta per massa desiderata, però anche M con D è il parametro di un progettista. Anche questo è un attrito desiderato, se volete, questa è una molla, tutti virtuali, però perché cambiarli la lettera? Secondo me confonde un po', però va bene, ve l'ho detto, quindi in questo momento vi rimarrà impresso. Quindi applicando questa legge di controllo, che è ancora a compensazione della dinamica, perché è una dinamica molto semplice, in cui c'è solamente M, che è la massa fisica del mio punto materiale, e compensando la forza, rimettendola dentro, io ottengo a ciclo chiuso questa bella equazione, che è l'equazione che supera i limiti di quella equivalente del controllo di posizione. Quindi posso assegnare anche la massa. Ora adesso, questo è quello che noi faremo a 6 gradi libertà, quindi sarà tutto un po' più complesso, anche perché adesso devo introdurre anche il modello nello spazio operativo. Non è complesso dal punto di vista concettuale, però sono altre equazioni da capire. Però concettualmente questo è quello che sto facendo, io sto imponendo il comportamento a seguito di un scambio di forze. Quindi questo è quello che voglio fare con il controllo di impedenza. Voglio imporre un comportamento dinamico desiderato, cioè voglio imporre una funzione di trasferimento. Guardate, è cambiato il paradigma di controllo rispetto al controllo posizionale, al controllo di movimento. Io non voglio in questo momento necessariamente raggiungere una certa posizione con l'ergo terminale, oppure imporre una certa forza nell'ambiente. io voglio assegnare un comportamento dinamico. Questo è il mio obiettivo di controllo, con il controllo dell'impedenza e lo sarà anche con il controllo dell'ammettenza. È una versione che facciamo oggi, diciamo, di impedenza. Perché questa scelta progettuale? Questa scelta progettuale perché io, come comportamento desiderato, assegno un sistema massamola smorzatore virtuale, ma questo significa che in qualche modo io posso assegnare il comportamento durante il transitorio. Vi ricordate i lucidi che abbiamo visto della Universal Robots? Qui c'è un transitorio di un contatto e ci sono due soglie diverse, due metriche diverse per quantificare il danno dovuto all'impatto transitorio e regime. In questo modo io posso giocare con il transitorio. Ok? Ok. Allora, prima di, diciamo, entrare nelle equazioni, noi facciamo un attimo un salto indietro, che è abbastanza, diciamo, veloce, però dobbiamo un attimo ragionarci e vediamo un attimo il modello operativo, il modello dinamico nello spazio operativo. Ok. Allora, guardiamo un attimo. Io che cosa ricordo? Ricordo che la mia legge di controllo, che è il mio modello matematico, quello che avevamo, diciamo, trovato insieme, è bq2 punti più cq punto. Ignoro un po', diciamo, le dipendenze per avere una notazione più compatta. fatemi scegliere un colore che sia visibile. Più g è uguale a tau meno g trasposto h. Allora, ricordo che questo è, diciamo, il modello matematico che abbiamo trovato. Vediamo, rivediamo velocemente i termini. Accelerazione aggiunti. Matrice di inerzia quadrata n per n definita positiva. Poi ho dei termini di corioli e centripeti, che sono quadratici nella velocità, anch'essi configurazione dipendente, come la matrice di inerzia. La gravità, che è un vettore configurazione dipendente. Tau sono le coppie aggiunti e sono il mio grado di libertà, cioè il mio ingresso. H è la forza e il momento, quindi questo è un vettore 6 per 1 che aggiunge all'organo terminale. E meno g trasposto h è la proiezione in newton metri, se abbiamo solo aggiunto i rotoedali, di questa forza all'organo terminale, e come si proietta sulla struttura. Questo è il modello che abbiamo fatto. Allora, che cosa facciamo? Molto semplicemente, al posto di Tau scriviamo il ritrasposto h. Allora, chiedo scusa, questo è h con e, e questo qui, no, in realtà gamma, ho usato il termine gamma, il testo. Gamma è una forza, diciamo, 6, è quella che viene, questo è sempre 6 per 1, è quella che viene esercitata dalle coppie. Ok? Quindi la dualità cinetostatica. Quindi poi metto in evidenza qui, g trasposto a sinistra, porto tutto a secondo membro e moltiplico a sinistra per b a meno 1. Allora, vi ricordo che b è sempre quadrata, anche se il mio robot dovesse essere ridondante, n per n, ed è sempre definita positiva. In quanto definita positiva vuol dire che è a rango pieno, ed è sempre invertibile. Non c'è bisogno di, diciamo, di scomodare la matematica, è un'inerzia, se un'inerzia uguale a 0 o negativa, è contro, diciamo, la fisica elementare, per cui possiamo invertirla, punto e basta. E quindi otteniamo questa relazione qua, che, diciamo, è lunga, è complicata apparentemente, ma in realtà perché ci sono tutte le dipendenze, semplicemente per questo, ma abbiamo già visto. Poi ricordiamo anche la cinematica differenziale del secondo ordine. Noi che cosa sappiamo? Noi sappiamo che x punto è uguale a g con a, q punto, in cui g con a, ce lo ricordiamo, è lo jacobiano analitico. Se g con a è lo jacobiano analitico, vuol dire che x punto è la derivata temporale della rappresentazione dell'organo terminale, posizione, orientamento. E mi ricordo che la derivata temporale della posizione è proprio la velocità lineare, non cambia nulla, però la derivata temporale dell'orientamento non è la velocità angolare, e questa è la differenza tra g con a g con a è lo jacobiano analitico è uguale, beh, moltiplico, devo fare la derivata del prodotto e ottengo che questo è dato da g con a, q due punti, più g con a, q punto. Ed è la regola della derivata del prodotto. A questo punto ho tutte queste cose e che cosa faccio? Prendo la q due punti e la porto qua dentro. Dopodiché, e quindi, diciamo, c'è poco da dire per quanto riguarda tutti questi termini qua perché sono semplicemente termini che io ottengo avendo fatto la sostituzione di cui ti ho appena detto. Dopodiché io noto, cioè noto, faccio un'altra sostituzione e in particolare alle forze e momenti fisici all'organo terminale sostituisco quelli analitici facendo riferimento su, diciamo, questa trasformazione che è quella che abbiamo, diciamo, già visto tra grandezze fisiche e cosiddette analitiche. Questa cosa molto complicata vi faccio notare una cosa perché poi alla fine è apparentemente complicata però stiamo sempre parlando del secondo principio della dinamica nelle forme, diciamo, un po' più generalizzate, un po' estese però è quello l'oggetto di cui stiamo parlando. Allora, ricordiamoci un attimo sempre il secondo principio della dinamica che è forza uguale massa per accelerazione, va bene? Quindi questo significa che io, diciamo, ho, se lo esprimo rispetto a una certa x questo qui è forza uguale massa per x due punti questo significa x due punti è uguale beh, massa a meno 1, no? la derivata rispetto ad m per la forza e dov'è questo termine massa a meno 1? Sta qua perché questa è la forza tutti questi altri termini sono i termini dovuti al fatto che io ho una catena seriale di corpi rigidi per cui ci sono forze coriolie e centripede c'è la gravità e poi, diciamo, c'è il termine g punto o q punto di trasporto forse non so se è il termine corretto però adesso io voglio che voi concentrate l'attenzione su quell'aspetto là quello è proprio, diciamo, l'inverso della matrice di inerzia per cui in qualche modo io sono arrivato a poter scrivere nello spazio operativo assegnando una matrice di inerzia con la A, col pedice A ditemi, analitico che è guardate è una cosa che sembra un po' strana però se il robot non è ridondante la B con A è data da la mia B e poi ho due volte lo jacobiano analitico e questo qui è proprio il termine che va a moltiplicare l'accelerazione quindi questo è diciamo il concetto di massa se io lo riferisco alla x due punti dell'organo terminale e guardate adesso la dipendenza la posso scrivere rispetto all'organo terminale rispetto a x quindi rispetto alla posizione dell'orientamento dell'organo terminale non più rispetto ai giunti quindi questa riscrittura del modello matematico ci consente di ci consente di avere un modello del secondo ordine sempre non lineare sempre accoppiato cioè dal punto di vista delle proprietà è molto simile ci sono delle aspetti diciamo un po' un po' subdoli legati alle singolarità cinematiche ma diciamo ce le risparmiamo in questo corso va bene però se noi pensiamo a un robot che è sempre in una configurazione non singolare beh questo è massa per accelerazione colori e centripet gravità forze di controllo e interazione con l'ambiente ok quindi ho introdotto diciamo questo modello nello spazio cosiddetto dello spazio operativo per poter arrivare adesso a ritornare al ragionamento con l'impedenza va bene allora torniamo alla nostra impedenza e torniamo al nostro un attimo che credo carico allora allora Grazie a tutti. Allora, torniamo alla nostra impedenza. Che cosa facciamo? Partiamo con la solita linearizzazione del modello, cioè cancelliamo tutto, va bene? Però in questo caso il nostro modello sarebbe B più due punti più N è uguale a U più J trasposto H perché abbiamo un'interazione con l'ambiente. Quindi nel momento in cui noi andiamo a fare la compensazione della N ovviamente rimane l'interazione con l'ambiente. Ok? È giusto? Scegliamo come nuovo, come ingresso, come segnale ausiliario. Beh, scegliamo qualcosa di simile a quello che abbiamo visto prima, però ovviamente con le dovute differenze. Tra parentesi tonda, che cosa abbiamo? Abbiamo i termini che noi sappiamo essere quelli che noi vorremmo imporre a ciclo chiuso. Quindi abbiamo Kp per x tilde, Kd per x tilde punto e poi md per x due punti desiderato. Vorremmo comparisse md per x tilde due punti in maniera di avere md per x tilde due punti, è quello che succederà. Poi osserviamo il termine in J punto Q punto. Abbiamo capito che questo lo mettiamo per cancellare il termine che comparirà derivando x punto uguale J con A Q punto. Quindi questo termine qua ci serve solamente per cancellare. E poi abbiamo md a meno 1 che serve per i conti e l'inverso dello jacobiano. Ovviamente tutte e tre le matrici sono di controllo, sono definite positive per i motivi che ormai dovremmo aver ben assimilato. Ricordando, ma a questo punto l'abbiamo appena visto, solamente che se faccio riferimento ai lucidi ci sia qualche centinaio di pagine fra il momento in cui viene introdotto e adesso, sto ricordando la massa equivalente nello spazio operativo, allora andando a fare la sostituzione, ce la risparmiamo perché è semplicemente una sostituzione, ottengo un sistema a ciclo chiuso che è abbastanza soddisfacente. Guardate, non andrà bene. Io mantengo la scelta, così fatto anche in altre leggi di controllo, di andare in maniera progressiva. Faccio vedere prima la prima cosa che faccio a un problema e poi come posso arrivare a una legge di controllo che rimuova questo problema. Va bene, perché altrimenti mettere subito una legge di controllo molto complicata dal punto di vista notazionale è più difficile da digerire. Allora, che cosa abbiamo in questa legge di controllo? Beh, il primo membro è quello che voglio. Il primo membro è esattamente una massa virtuale che posso assegnare io, uno smorzamento virtuale che posso assegnare, una molla virtuale che altrettanto posso assegnare. Al secondo membro ho un'interazione con l'ambiente, però guardate, ricordiamo che la grandezza fisica è H con E, questo che noi chiamiamo H con E. è il vettore 6 per 1 di forze e momenti dell'ordine terminale. però qui compare ancora una dipendenza dalla configurazione. Vi ripeto, a me non piace, cioè non è che a me non piace, non è soddisfacente dal punto di vista del controllo, perché una interazione configurazione dipendente significa che a seconda del posto in cui lavorate con il vostro robot, il comportamento è diverso e questo non è accettabile. Ok? Quindi, il primo tentativo lo cataloghiamo tra i tentativi cosiddetti ingenui e passiamo a un altro tentativo che andrà un po' meglio del primo. E allora cosa facciamo? Beh, guardate, io nel controllore aggiungo la compensazione della forza, quello che vi ho fatto vedere prima nel caso scalare. Questa aggiunta, io ve lo ripeto un'altra volta, non è banale, lo vedremo dopo nei video sperimentali, sempre quelli lì, diciamo, svolti a Napoli negli anni 90. Il fatto che io misuri la forza e la compensi qui ha delle ripercussioni che vedremo dopo. Però per ora, diciamo, la sto misurando e mettendola nel controllore. Una volta che l'ho messa nel controllore, quindi la compenso, io poi la faccio ricomparire, questa forza, all'interno della parentesi tonda. Cioè io la sto mettendo e levando nello stesso controllo con dei pesi diversi, alla fine, questo è quello che sto facendo. Ok? E questa modifica mi dà, a ciclo chiuso, un sistema di equazioni che adesso comincia a piacermi un po' di più. Il primo membro è uguale a prima, il secondo è molto più semplice, ho levato la B, per cui la dipendenza dall'inerzia l'ho levata, però qui ci sta ancora la dipendenza dall'orientamento dell'organo terminale. Per cui questo ancora non va bene. La cosa poi su cui io vorrei che voi rifletteste un attimo è questa frase qui. Adesso ve lo dico, e sarà un po' ermetico quello che dico, però poi dopo col video sarà chiaro, spero. Il fatto che voi compensiate le forze all'organo terminale rende il robot infinitamente rigido. Che cosa significa? Che voi, qualsiasi forza state mettendo all'organo terminale, viene reiettata dal robot stesso. Se voi non lo rimetteste qua, questa forza, avreste proprio fatto il controllo di modo che reghetta il disturbo. Rimetterla qua significa cercare di ottenere questo comportamento di impedenza e quindi di assecondare, fatemi dire, le forze all'organo terminale. Come risolviamo il problema? Lo risolviamo nello stesso modo con cui abbiamo fatto nel controllo posizionale, e cioè noi definiamo il cosiddetto nuovo errore, nel senso che noi per tutto il corso avevamo degli errori che hanno riferito rispetto alla terna base, invece adesso l'errore lo definiamo rispetto alla terna desiderata e questo ci consente di avere una serie di semplificazioni. Allora, dal punto di vista dei conti, ci sarebbero dei conticini da fare, però noi, così come abbiamo fatto anche all'ultima lezione, non li facciamo e accettiamo in maniera dogmatica questa relazione. Quindi noi sappiamo che x tilde punto rispetto al nuovo terna di riferimento è calcolabile tramite uno jacobiano per q punto e poi c'è un termine strano, però guardate questo termine strano da chi è composto, perché poi alla fine i calcoli li facciamo fare al calcolatore, per cui dobbiamo solamente vedere se siamo in grado di capire cosa c'è. Qua c'è una velocità angolare desiderata, espressa in terna desiderata. Qui c'è la matrice di trasformazione D fra la terna desiderata e con input l'orientamento fra la terna desiderata e la terna indefettor. Qui c'è un vettore posizione che collega l'origine della terna desiderata all'origine della terna indefettor, espressa in terna desiderata. È un vettore, cioè non dà problemi concettuali di nessun tipo. Questo è un prodotto vettoriale per questo vettore di velocità angolare, e o punto desiderato è una rotazione. Per cui, diciamo che dal punto di vista concettuale, io non abbiamo fatto i calcoli, però dal punto di vista implementativo, non concettuale, io non vedo nessun problema. Si fa una funzioncina che calcola questo. Quando vado a fare la derivata di questo x tilde punto, io scopro che posso calcolarmi x tilde due punti. Ancora una volta, è semplice calcolarlo, per cui, indipendentemente dall'espressione simboli. Allora, a questo punto, la nuova legge di controllo ha questa espressione qua, in cui, vediamo un attimo, io che cosa sto facendo? Utilizzo questo nuovo jacobbiano, x tilde e x tilde punto sono calcolati in maniera diversa, nel senso che adesso sono espressi rispetto alla terna desiderata, ho sempre questo termine che compensa j punto, solo calcolato rispetto a questo nuovo jacobbiano, e quindi col meno qua, ma non comporta nessuna difficoltà concettuale, compenso anche b punto, per cui lo levo da mezzo, e poi metto dentro che cosa? La forza, questa volta fisica, ma espressa interna desiderata. Quindi, concettualmente, questa cosa qui non è diversa, concettualmente non è diversa da questa, va bene? La cosa importante è la compensazione della forza, e poi la rimetto dentro, in maniera opportuna, c'è una compensazione del modello, e poi ovviamente ci sono tutti dei termini nuovi che sono legati al fatto che io adesso sto, diciamo, lavorando con una catena seriale di corpi rigidi, no, scusate, qua. Per cui, questo è il nostro, la nostra legge di controllo, e questo è, diciamo, quello che io ottengo. Questo è esattamente il comportamento che io mi sono prefissato di ottenere, per cui ho il primo membro, che è sempre lo stesso, e l'abbiamo già discusso, non lo ridiscutiamo. Il secondo membro è la forza, quella fisica espressa all'organo terminale, 6 per 1, forza e momento, espressa nella terna desiderata. Va bene? Per cui, diciamo, è il comportamento che voglio. E quindi, qual è il mio obiettivo di controllo? A questo punto si traduce, fatemi dire semplicemente, nell'assegnare questi coefficienti. Guardate che se queste matrici dinamiche, queste matrici, diciamo, di progetto, oltre a essere definite positive, le scegliete anche diagonale, questo significa tornare ad aprire il testo di fondamenti di automatica e vedere una funzione di trasferimento del secondo ordine. Lo faremo, diciamo, nella prossima esercitazione, vi faccio vedere, vi faccio vedere qualcosina, ma sono scemenze, è quello che stiamo facendo in questi giorni. Lo schema blocchi di questo controllo può essere rappresentato in questo modo. Allora, io qui ho il mio, la PDS, no? Ho il mio processo, il robot più l'ambiente, devo misurare Q, Q, punto e la forza di contatto, dopodiché nella parte, diciamo, di compensazione della dinamica, dinamica inversa, io devo usare tutto per, diciamo, compensare e devo moltiplicare per questo segnale ausiliario Y. Y è proprio, diciamo, l'equazione che è qui in grigio, quindi nel controllo cosiddetto di impedenza. Cosa devo essere in grado di far avere a questo blocco? Beh, le traiettorie desiderate, quindi posizioni e orientamento con le loro derivate, guardate, qua, questa è la scelta, diciamo, grafica del libro di testo è che qua io rappresento l'orientamento con una matrice di rotazione e poi rappresento il concetto differenziale con un vettore visangolare, no? Qua è una scelta, diciamo, più fisica che non, diciamo, una notazione semplice. Qua io capisco bene che cosa fa, la stessa cosa con le accelerazioni. Ovviamente poi devo avere ingresso anche posizione e orientamento dell'organo terminale e le derivate prime, ma anche riporto la forza perché io la rimetto, la ributto dentro, la forza qua dentro. Va bene? Ok, quindi questa è, diciamo, la legge di controllo di impedenza e ora cerchiamo un attimo di vedere un esempio su che cosa comporta scegliere questa legge di impedenza. Allora, poi, vabbè, la letteratura poi è piena di leggi di controllo, di impedenza senza misura di forza, però è chiaro che in un corso noi facciamo le cose tra virgolette e base. Allora, io qui ho il solito planare a due bracci, ricordiamo che questo è il piano verticale in posizione di riposo dell'ambiente, quindi se io spingo il piano l'ambiente reagisce con una forza di tipo puramente elastico nella direzione che mi riporta il riposo. Va bene? Io desidero andare dove sta X desiderato qui, in questo momento l'organo terminale si trova qui per fare questo disegno e la rigidezza dell'ambiente ha un certo valore K con X lungo K con Y è 0 quindi la rigidezza dell'ambiente è semi definita positiva perché è definita è maggiore di 0 solamente nelle direzioni in cui l'ambiente reagisce e noi ci rimettiamo alle interazioni lineari perché sono più facili da comprendere per voi però è chiaro che le stesse cose si possono fare anche se io ho diciamo un'interazione di momento va bene? E reagisce allo stesso modo con una molla non cambia nulla per più difficile da vedere quindi rimaniamo al lineare desidero affondare di X con Y e io dico affondare perché è chiaro che se la mia X desiderato diciamo è sulla superficie io non sto eccitando la molla dell'ambiente quindi devo entrare un po' dentro in maniera tale che l'ambiente spinge ora le equazioni a ciclo chiuso sono queste qua va bene? per cui io ho che il mio sistema reagisce con una massa desiderata per l'accelerazione un smorzamento desiderato virtuale per la velocità poi ho la molla virtuale che in questo caso diciamo si combina con la molla dell'ambiente perché in questo caso la forza con cui io sto interagendo con l'ambiente è a sua volta una molla e a secondo membro siccome è X tilde ho diciamo la stessa cosa rispetto a X di riposo e X desiderato che cosa significa questo? significa che così come per il controllo posizionale la posizione che io raggiungerò al regime sarà un'opportuna interazione delle due molle una virtuale che è quella del controllo e una fisica che è quella dell'ambiente allora come faccio a scegliere questi guadagni? facciamo prima delle simulazioni poi discutiamo allora scegliamo un ambiente che abbia una posizione a riposo di un metro lungo l'asse X e poi lo scegliamo più cedevole more compliant più cedevole a un K più basso rispetto al meno cedevole quindi avrei potuto dire più rigido e meno rigido perché ve lo ripeto rigidezza e cedevolezza sono lo stesso concetto però uno l'inverso dell'altro va bene è una cosa che secondo me è un po' ambigua nel senso che avere due concetti equivalenti uno si potrebbe eliminare e usarne uno solo di due per il controllo noi scegliamo gli stessi parametri quindi cambiamo l'ambiente ma gli stessi parametri e il robot parte in una posizione in cui è appoggiato al muro quindi x un metro e y zero e deve andare 10 centimetri dentro al muro e anche 10 centimetri lungo y però lungo y già vi anticipo l'ambiente non reagisce per cui c'è poco divertimento la posizione dell'organo terminale lungo y è esattamente questa questa è fatta una simulazione in alto a sinistra ed è 10 centimetri per cui è andato a regime con errore nullo come ci aspettavamo invece a destra è stata rappresentata solamente la forza la forza che poi sarà diciamo proporzionale alla posizione perché è una molla la forza all'organo terminale che è data proprio dall'interazione di tipo massa molla smorzatore e quello che posso vedere è che ho due linee una tratteggiata e una continua in base alla cedevolezza ora qual è quella diciamo più o meno cedevole l'ho scritto però in realtà lo posso intuire nel senso che il più cedevole è questo che scambia alla fine una forza anche inferiore al regime e il più rigido è questo la cosa importante da notare è che io è vero che ho assegnato il comportamento dinamico però io qua vedo che diciamo per esempio le supronuncazioni sono diverse allora c'è qualcosina che mi lascia un attimo perplesso perché sono diverse perché guardate io nell'equazione differenziale ho il Kp che è dato da una combinazione il Kp del controllo più quello dell'ambiente per cui l'ambiente sta influenzando anch'esso la dinamica va bene assegno quello che voglio però poi l'ambiente diciamo gioca un certo ruolo e cambia l'interazione quindi è chiaro che io guardate in questo caso a regime ho 200 N che sono 20 kg sono diciamo è un numero alto o basso boh dipende dal robot dipende dall'ambiente dipende dall'applicazione da tante cose però quello che è oggettivo è che io nel transitorio ho superato del 50% rispetto al valore di regime la forza per cui quello che è oggettivo è che io qui devo avere tutti i componenti che siano in grado di resistere a una forza che è il 50% maggiore rispetto a quella di regime e non è detto che io ce l'abbia oltre al fatto che io ho delle oscillazioni a me le oscillazioni diciamo o ci deve essere un motivo valido oppure non mi piacciono molto bene ok a regime quando l'ambiente era più cedevole sono arrivato a 7 cm invece dei 10 quando l'ambiente era rigido sono arrivato a 2 cm però il mio obiettivo di controllo non è raggiungere la posizione desiderata quindi questa informazione la metto pure in secondo piano ok come scegliamo questi parametri in questo momento noi possiamo fare un discorso di fondamenti di automatica però in questo momento cerchiamo di cerchiamo di fare una considerazione di tipo fisico va bene perché la robotica avete capito che molte considerazioni sono considerazioni proprio secondo principio la dinamica quindi cerchiamo un attimo invece di usare la matematica di usare la nostra intuizione fisica allora non voglio forze di contatto molto alte anche perché io non conosco esattamente la posizione del muro anche se la misuro la misuro con errore non conosco la cappa ambientale precisamente per cui non posso basarmi troppo sul modello in effetti quello che io voglio fare è essere eccedevole con un ambiente rigido e il rigido in un ambiente eccedevole perché? perché quando faccio rigido e rigido la cosa da grandi grandi problemi sia dal punto di vista matematico che dal punto di vista implementativo pratico rigido e rigido è facile anche intuirlo significa che voi avete non so un oggetto rigido questo qua è un oggetto rigido e cercate diciamo di controllare l'interazione col tavolo che è anch'esso rigido ok? per cui a ogni piccola variazione corrispondono le forze molto alte proprio anche dal punto di vista ingegneristico è una cosa delicata in realtà quello che noi facciamo in maniera assolutamente intuitiva noi siamo veloci e rigidi nel movimento libero e diventiamo lenti eccedevoli quando interagiamo se voi ci pensate quando voi prendete un oggetto fate esattamente questo la vostra generazione di traiettoria è una generazione di traiettoria in cui voi andate velocemente fino a diciamo fare il grasp cioè fino ad avvicinarvi all'oggetto poi rallentate e lì diventate cedevoli immaginate di prendere un oggetto che secondo voi non è bene in equilibrio che cosa fate? siete proprio il massimo della cedevolezza ci andate con 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 grande diciamo cautela ebbene noi poi questo è quello che facciamo e che facilmente diciamo inquiglie cosa significa in termini di guadagno? Beh io quando mi aspetto un contatto io diciamo cerco di essere cedevoli quindi una massa grande e una basso rigidezza virtuale quando sono in movimento libero invece io voglio essere veloce e reattivo e rigido quindi un abbasso massa e un alto kp e poi diciamo il termine kd lo uso per smorzare ok? cioè per profilare per profilare il comportamento in transitore vediamo qualche video e poi facciamo la pausa bene? allora ancora una volta sono video del 97 ma assolutamente sono i video gli esperimenti sono sempre gli stessi la matematica è quello il video sul setup sperimentale è diciamo lo riporto per completezza però l'abbiamo visto proprio ieri per cui adesso non lo faccio vedere se qualcuno sta guardando i video le registrazioni della lezione sappia che è nella lezione di ieri quindi passiamo direttamente al video sulla impedenza cosa dovete notare in questo video c'è un sensore di forza ieri non c'era il robot sarà rigido per le interazioni non misurate e ora vedrete che cosa significa quindi ora capiamo cosa vuol dire il fatto che è infinitamente rigido nei confronti della forza posso assegnare la dinamica desiderata quindi si comporterà in maniera in maniera diciamo desiderata e noi vedremo delle diciamo delle proprie con guadagni diversi allora un attimo allora vedete il video? ok questo è il solito foglio A4 con scritto in font Times New Roman forse 24 la scritta forse di più e questo è il nostro bravo professor Villani allora cosa sta facendo adesso? adesso sta facendo esattamente quello che io vi ho detto e cioè il fatto che qui ho un sensore di forza forza e momento all'ordine terminale quando adesso lui muove la punta il robot si comporta in maniera acidevole così come progettato dal controllo quando quando muove il robot in un ecco qua adesso vedete che lui con la mano è a monte del sensore di forza il controllore quindi non sa che c'è un'interazione quello che sente è un disturbo non misurato e lo reietta quindi il robot è rigido perché non ha misurato quella forza invece quando lo prende in punta il robot si comporta in maniera anche quasi docile perché questo è se viene progettato in questo senso perché questo è proprio il modo per spostare dei grandi manipolatori l'organo terminale dei grandi manipolatori il fatto di mettere in punta un sensore di forza e di renderlo con il controllore diciamo cedevole quindi ora questo è il ora guardate lui lo muove poi quindi ora voi potete notare che diciamo si sta comportando in maniera cedevole non sta riettando questo disturbo ovviamente io adesso non riesco a capire quali sono i parametri guardando questo video però adesso prima o poi lui dovrebbe vabbè questo l'abbiamo capito insomma si comporta in maniera ok ora guardate questo è l'equivalente di un riferimento di un riferimento al gradino lui prima lo muove e poi quando lascia la forza lui torna a zero la prima volta avete visto che era molto smorzato invece adesso vedete che ci sono delle oscillazioni perché hanno cambiato i guadagni del controllore va bene quindi questo e questi sono vari tipi di guadagni ok in cui potete apprezzare in questo caso diciamo visivamente però toccandolo con mano si percepiscono proprio i guadagni perché poi si percepisce anche la massa virtuale quando si tocca che è diversa e quindi diciamo uno può progettare il tipo di interazione desiderata ora la stessa cosa l'uomo che interagisce è chiaramente una forza diciamo non prevista questo scatolone di cartone può essere visto come un comportamento più o meno elastico anche se di una cappa non nota un po' strana e diciamo la traiettoria desiderata è una traiettoria che affonda nel cartone per cui qui possiamo vedere le forze di interazione e la posizione dell'organo terminale come vengono diciamo misurate che ovviamente dipendono dai guadagni assegnati va bene ok allora se avete domande